Buonasera, siamo dalla Rai qua davanti. Buonasera Stefano, che cosa non ha funzionato questa sera? L'avversario è molto forte, ce la siamo giocata su tutte le situazioni. Abbiamo commesso un errore, dove loro sono stati molto bravi a punirci, un unico errore del primo tempo, ci hanno fatto il gol, credo, nell'unico tiro che hanno fatto. Dopo, sicuramente dopo il secondo gol, che andava evitato con più attenzione, perché sapevamo che il Parigi batteva i calci d'angoli velocemente, quindi era una situazione che conoscevamo. Dopo il secondo gol è stato sicuramente più difficile, c'è stato un calo anche a livello mentale che non deve succedere, perché le partite durano fino alla fine. Anche se poi dopo ci siamo ripresi un po', ma dopo è stato più difficile, anche perché abbiamo sicuramente favorito il PSG, che abbiamo cercato di rimontare, di far salire la squadra. Negli spazi importanti con i giocatori che hanno di velocità e di qualità ci hanno creato difficoltà. La seconda domanda è come giudichi a questo punto la classifica, il Milan è ultimo, ma è ancora una classifica corta, come ci si rialza? E c'è questo dato, anche se abbiamo parlato di come sono andate le precedenti partite, però questi zero gol in tre partite. La classifica è evidente che non siamo messi bene, io onestamente speravo, chiaramente un altro risultato nostro, ma speravo che il Newcastle non battesse il Borussia Dortmund. Questo ci dà ancora delle possibilità, è chiaro che non possiamo continuare a sperare sui risultati avversari se non cominciamo a vincere le partite noi. Il prossimo scontro con il PSG sarà determinante e cercheremo di far meglio stasera, perché credo che abbiamo visto, io ho visto delle cose positive, ma a livello tecnico dobbiamo essere sicuramente più precisi, più efficaci. Poi il fatto di non uscire a far gol, pur avendo avuto anche oggi delle buone situazioni, è chiaro che lì è la situazione dove dobbiamo lavorare di più. Prego. Tutto sport, per favore. Grazie. Buonasera Stefano. E Jovic, se fermatore di scaldamento, cosa ha avuto per Domenica? Ha sentito qualcosina la dottore. E per il Napoli è dura. Non lo so, non ci ho parlato ancora né con lui né con il dottore. Ok, andiamo qua, per favore. Buonasera Mister. Anche alla luce di quello che ha visto in campo oggi, secondo lei quello tra Leao e Mbappé è una costruzione giornalistica? È un paragone che legge? Secondo me no, nel senso che Mbappé è molto più attento di Leao. Mbappé è un secondo punto, non è più un esterno offensivo, quindi Rafa è più un esterno d'attacco. Poi stiamo parlando, secondo me, in questo momento del miglior giocatore al mondo, e l'ha dimostrato anche stasera. E stiamo parlando invece di un altro giocatore che vuole arrivare a certi livelli, ma che ancora deve fare. E stasera l'ha convinta Leao? A me è piaciuto. Certo che se faccesse gol sarebbe stato meglio, ma comunque ha dovuto lavorare tutta la partita in uno contro uno con Marchinius, che è un grandissimo difensore. Ed è stato comunque, tutte le volte che è entrato in possesso palla, ha messo in difficoltà la difesa avversaria. E poi è chiaro che dovrebbe concludere meglio, dovrebbe anche, secondo me, tutte le volte che entra dentro l'area, dovrebbe alzare appena appena un po' prima la testa, per poi dopo crossare meglio per il compagno. Perché oggi abbiamo avuto tutta la situazione dove avevamo un compagno libero dentro l'area e non siamo riusciti a cercarlo, a trovarlo. Scacchi, per favore. Buonasera, Minister. Ne ha parlato lei prima, quel calo a livello mentale, cioè quella mancata reazione a livello mentale, la preoccupa un po'. Perché forse anche in altre occasioni la squadra, quando la partita si mette male, non ha reagito in un certo modo ed era uno dei punti di forza di questa squadra. Sì, sì, sì. Io non voglio assolutamente difendere per forza i miei giocatori, ma comunque andare sotto i due gol contro un avversario così di qualità non è così semplice. Ci abbiamo messo un pochettino, poi dopo abbiamo reagito. Anche perché noi abbiamo avuto, credo, un paio di minuti prima in occasione, secondo me l'occasione più importante, di pareggiare con Pulisic. Quindi poi dopo invece subisse il secondo gol. Non deve accadere, su questo dobbiamo migliorare, sono d'accordo. Però ci sta a subire un pochettino il momento difficile della partita. Poi abbiamo riprovato, abbiamo rigiocato, abbiamo giocato pallone su pallone per tutta la gara. Purtroppo non siamo stati al loro livello, secondo me, soprattutto dal punto di vista tecnico. Il collega francese. Buonasera, mister. Xavier Moferrande, Radio Francese. Qual è la sua impressione che ha pensato nella partita di Warren Zahir Emery? Grazie. È un giocatore giovane, ma sembra invece un giocatore molto maturo in campo, lo conosciamo bene. È un giocatore che è un centrocampista completo, che ha tecnica, ha cambi di passo, è un giocatore molto forte. Bene, grazie. Buonasera. Grazie. Grazie. Grazie.